Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia, siamo noi. Allora Nativa è un catalizzatore di innovazione, vuol dire che da quando siamo nati noi cerchiamo delle opportunità, degli strumenti e svolgiamo delle attività che accelerano un percorso di evoluzione verso la sostenibilità. Lavoriamo soprattutto con le aziende, facciamo consulenza strategica alle aziende, ma ci capita spesso di lavorare anche come policy advisor oppure come advisor di fondi di investimento e di operare anche in ambiti più specifici, più verticali come nel mondo di costruzione e dell'architettura e dovunque andiamo noi costruiamo dei progetti che consentono di accelerare questa evoluzione verso un futuro sostenibile. Per noi sostenibile è un concetto che ha delle radici anche molto solide dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della ricerca e ci fondiamo su una ricerca che viene da quasi 30 anni di esperienza, soprattutto dal mondo scandinavo su queste tematiche. Nativa quando l'abbiamo fondata avrebbe potuto essere una società di consulenza. Noi sì, facciamo anche quella che potremmo definire consulenza o advisory, per usare un'altra terminologia, però ci vediamo molto di più proprio come dei catalizzatori di cambiamento e anche come dei designer, non nel senso del disegno di oggetti, ma proprio come progettisti. Quindi andiamo a costruire dei futuri possibili, andiamo a costruire delle situazioni, una descrizione e un modello di come dovrà essere un'azienda del futuro, un'adatta organizzazione del futuro e costruiamo questo percorso di evoluzione. Questo è un modo di lavorare che è abbastanza particolare, usiamo degli approcci come ad esempio il backcasting, qualcuno lo chiama retro planning, che vuol dire proprio partire dal risultato che vuoi raggiungere anziché cercare di risolvere solo i micro problemi che hai oggi. Quindi questi sono tutta una serie di aspetti che poi si producono fondamentalmente nella capacità di portare innovazione anche in situazioni molto complesse che sono quelle tipiche che riguardano la sostenibilità. Quindi noi non facciamo assolutamente nulla che non vada in una direzione di creazione di un impatto sociale, ambientale positivo attraverso un modello economico, un modello di business che sia rigenerativo. La cosa bella è che questo ci viene riconosciuto, le aziende che lavorano con noi ci apprezzano proprio per questa unicità e anche per il fatto che ci portiamo proprio anche la componente da un lato umano, ma anche delle professionalità assolutamente solide, robuste, studi assolutamente approfonditi in tutto il mondo. Poi Nativa ha anche negli anni incubato o fondato delle nuove, non so se chiamarle start up, ad esempio abbastanza recentemente abbiamo costituito come partner strategici di un grosso gruppo quotato in borsa una piattaforma di investimenti che si chiama Next Step e adesso stiamo sviluppando quello con l'obiettivo di raccogliere capitali e andarli a investire su aziende che vogliano evolvere verso la sostenibilità. Abbiamo un team di architetti che sono un riferimento non solo in Italia, ma anche a livello internazionale sul portare la sostenibilità e questi concetti di rigenerazione anche nell'ambito delle costruzioni, degli edifici e quindi anche su questo è parte del nostro lavoro. C'è l'area di consulenza, di affiancamento e di guida delle aziende nei loro percorsi di evoluzione, di innovazione verso la sostenibilità, c'è un'altra parte del nostro lavoro che è legata alla comunicazione di queste tematiche, le aziende molto spesso magari evolvono lungo il percorso di sostenibilità, ma poi non sanno come implicarlo all'esterno e le supportiamo in questo. E l'altra area che è stata abbastanza naturale per noi, essendo stati la prima B Corp e Benefit Corporation in Europa, come country partner di B Lab, B Lab è l'organizzazione che diffonde in tutto il mondo questo concetto, questo modello di B Corp e Benefit Corporation e noi proprio diffondiamo questi concetti, questi modelli a tutte le persone, a tutte le aziende che siano interessate e sempre di più affianchiamo le aziende in questi percorsi per adottare proprio un modello di B Corp e Benefit Corporation. Noi avevamo già in mente cosa doveva essere nativa e pensavamo un'evoluzione tanto rispetto al mondo noto del non profit quanto rispetto al mondo noto del for profit, perché ci sembrava limitante che lo scopo di un'azienda potesse essere solo quello di creare e distribuire dividendi agli azionisti, crediamo che un'azienda abbia un ruolo e una potenzialità straordinaria come elemento, come fattore di rigenerazione della società, di rigenerazione dell'ambiente, quindi se noi riusciamo a usare la capacità imprenditoriale, la capacità di impresa per risolvere problemi, per contribuire a migliorare il mondo, allora più ce n'è meglio è. Quando abbiamo scoperto il modello di B Corp ci siamo accorti che corrispondeva esattamente con l'idea che avevamo già in mente e quindi è stato proprio naturale adottare questo modello, questa forma. Cos'è una B Corp e cos'è una Benefit Corporation, che in Italia si chiama Società Benefit? Il concetto è relativamente semplice, la B Corp è una tipologia di impresa che ha come obiettivo quello proprio di rigenerare la società, rigenerare la biosfera, rigenerare la natura e quindi di condurre un business, condurre un'attività economica che generi un profitto, che generi un risultato economico da risolvere problemi ambientali e sociali. E questa però non è un'impresa sociale, può essere un qualsiasi tipo di azienda, quindi il concetto è questo, usare il business come forza di rigenerazione. Per riuscire a usare il business come forza di rigenerazione servono fondamentalmente due componenti, uno è la misura degli impatti, riuscire a capire, a misurare se un'azienda sta creando o distruggendo valore per la società. Questo era impossibile farlo fino a 10-15 anni fa, poi c'è stato un gruppo di imprenditori che ha iniziato a sviluppare una piattaforma tecnologica di misurazione, si chiama B Impact Assessment, che consente di misurare a 360 gradi tutto quello che fa un'azienda se complessivamente sta creando o distruggendo valore, non solo economico ma anche ambientale sociale. Le aziende che sono le più performanti, che creano più valore per la società di quanto ne prendano, si possono qualificare come B Corp certificate, quindi c'è un percorso anche di verifica, di validazione, di certificazione che è seguito da questa non profit che ha sviluppato questo modello che si chiama B Lab e le aziende che superano questo vaglio ed è estremamente selettivo possono qualificarsi come B Corp. L'altro aspetto è legato proprio allo status giuridico dell'impresa, perché secondo i codici civili, secondo le leggi proprio vigenti praticamente in tutto il mondo, lo scopo unico di un'attività, di una società di capitali è distribuire dividendi agli azionisti o creare, massimizzare il valore per gli azionisti, quindi l'ambiente, le persone non rientrano negli obiettivi, non rientrano negli scopi di un'azienda. Le Benefit Corporation dicono non solo devi misurare gli impatti, devi capire se stai creando o distruggendo valore, ma deve anche avere una forma giuridica, deve avere un modello che ti consenta di creare un impatto positivo, di creare un beneficio sia per gli azionisti sia per gli altri portatori di interesse, quindi sono aziende che hanno un duplice scopo, una duplice finalità e se vogliamo questo mettendo insieme la misura degli impatti con il sistema operativo, quindi proprio con un nuovo scopo che è riconosciuto con una specifica forma giuridica di impresa, oggi disponibile negli Stati Uniti e anche in Italia e anche in altri paesi, un'azienda può veramente, possiamo dire, utilizzare un nuovo sistema operativo e quindi andiamo proprio a creare delle condizioni che consentono alle aziende di diventare una forza di rigenerazione. Per essere B Corp in pratica bisogna misurare tutte le proprie attività usando un protocollo che si chiama B Impact Assessment, quindi è un protocollo, uno standard che è stato reso disponibile oggi in tutto il mondo, usato da più di 100 mila aziende ed è riconosciuto proprio come il massimo disponibile in termini di robustezza e di completezza per capire se un'azienda stia creando o distruggendo valore per la società e quindi è facile dirlo a parole, però poi quando vai a misurare stai creando valore economico a discapito di un valore ambientale sociale o stai creando valore economico rigenerando la società, rigenerando la natura, la biosfera? La maggior parte delle aziende oggi hanno come focus principale la creazione di un valore economico e il valore ambientale e il valore sociale non sono necessariamente perseguiti, anche perché secondo la legge questo non è necessario, non è richiesto, invece le B Corp nascono esattamente con questa intenzione. Proviamo a descriverlo in questo modo, immaginiamo che un'azienda sia un robot, che sia una macchina e di fatto non c'è moltissima differenza e questa macchina genera un risultato, crea un impatto, produce qualcosa, prodotti e servizi. Allora la certificazione B Corp, il protocollo di misura, B Impact Assessment, che è caratteristico delle B Corp, che è identificativo delle B Corp, va a misurare i risultati che produce questa macchina. Questo robot prenderà degli oggetti, li trasformerà in qualcos'altro e vediamo attraverso questo protocollo se il risultato generato da questa macchina migliora o peggiora il mondo. La forma di lo status di Benefit Corporation, società Benefit in Italia, è il sistema operativo della macchina, è l'istruzione fondamentale che dice qual è lo scopo che deve perseguire questa macchina. L'istruzione fondamentale è maximizing all this value, distribuire dividendi agli azionisti, la macchina svolgerà un sacco di attività, però alla fine il suo risultato sarà la creazione di valore per gli azionisti, le persone e l'ambiente non necessariamente saranno comprese. Se invece con una nuova forma, con un nuovo status giuridico, quindi la Benefit Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi o la società Benefit in Italia andiamo a riprogrammare la macchina, mettiamo un nuovo sistema operativo, la macchina avrà l'istruzione di creare valore sia per gli azionisti sia per altri portatori di interesse. Allora mettendo insieme queste due cose, la misura dell'impatto B Corp e la forma giuridica di Benefit B Corporation o Società Benefit possiamo veramente avere una macchina che anche nel lungo termine ha questa missione di migliorare le cose e non necessariamente sottrarre ed estrarre più risorse di quante ne restituisca. Il protocollo di misurazione B Impact Assessment delle B Corp misura tutti gli impatti sulle persone, tutti gli impatti sull'ambiente, sulle comunità, sui lavoratori, misura la trasparenza, la governance, il business model dell'azienda, quindi va a prendere a 360 gradi tutto quello che un'azienda fa e questo protocollo è disponibile online gratuitamente, chiunque può andare può registrarsi, può iniziare a utilizzarlo, in realtà non è un solo protocollo, ce ne sono più di 150, quindi a seconda delle caratteristiche dell'azienda di settore, area geografica, dimensioni, si genera un profilo che poi andrà a fare riferimento a un protocollo che consente anche di confrontare in tempo reale la tua azienda con le performance di migliaia di altre aziende nel mondo che hanno fatto lo stesso tipo di misurazione, quindi non è solo un protocollo di misura, è anche uno strumento di management, uno strumento di apprendimento, di crescita, di innovazione veramente potentissimo, quindi non a caso oggi è il più diffuso, il più utilizzato nel mondo proprio perché ne è riconosciuta l'utilità, la robustezza. B-Lab è una non profit internazionale, è partita negli Stati Uniti, rapidissimamente si è diffusa in America Latina, in 10 paesi dell'America Latina, lì hanno il modello è lo stesso, hanno una denominazione un po' diversa, si chiama Sistema B e in altri paesi c'è B-Lab Europe che segue tutti i vari paesi europei, ci sono dall'Australia all'Africa, ci sono praticamente tutti i continenti, sono coperti e lo scopo di B-Lab è quello di sviluppare gli standard di misura, di promuovere la diffusione della forma giuridica e di supportare lo sviluppo e la comunicazione, la visibilità e l'impatto della community, della comunità globale e delle B-Corp. Quindi è una rete, da un lato c'è un'organizzazione che è al servizio di una rete di migliaia di imprenditori in tutto il mondo che condividono questo stesso scopo, questo stesso obiettivo che è quello di usare il business come forza positiva o ancora oltre di ridefinire cosa significa avere successo nel business, quindi successo nel business non vuol dire solo generare risultati economici, ma vuol dire generare risultati economici che migliorino l'ambiente, che migliorano la società. Se ci pensiamo è forse l'unica modalità concepibile con cui dovrebbe essere gestito un business, anzi se uno comincia a ragionare in questi termini e sta emergendo anche con grande forza, proprio anche in questi giorni, in queste settimane, è quasi inconcepibile che un'azienda possa trarre dei profitti avendo generato degli impatti negativi sulle persone o sull'ambiente, quindi se ci pensiamo oggi ci sembra normale però a ben pensarci invece è una follia, come poi essere profittevole se hai causato danno, problemi a qualcuno o qualcosa? Quindi se vogliamo proprio definire in termini di principio cos'è il senso di una B Corp, di una Benefit Corporation, è un po' questo, che un'azienda dovrebbe poter distribuire dividendi, distribuire utili solo a condizione che non abbia causato danni o problemi alla società o alla natura, quindi quando questo è soddisfatto allora quello che avanza può essere distribuito, in caso contrario è bene che ci facciano delle domande perché sappiamo tutti che le condizioni di insostenibilità del pianeta oggi sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale sono giunte veramente a un limite, credo che siamo a un tipping point e nei prossimi anni sarà, anzi lo stiamo già vivendo oggi, un'accelerazione fortissima su queste tematiche ed è una trasformazione non lineare. Quando noi abbiamo scelto di costituire Nativa, di fondarla come una Benefit Corporation, abbiamo visto che questo modello esisteva in California, anzi esisteva allora in 7-8 stati degli Stati Uniti, abbiamo visto la legislazione californiana che appunto identifica queste aziende double purpose con un doppio scopo, abbiamo preso quel modello di legislazione, l'abbiamo ovviamente adattato, ci siamo fatti aiutare e consigliare da giuristi, notai, addetti ai lavori e abbiamo appunto col nostro statuto ha costituito Nativa e a quel punto, era luglio del 2012, abbiamo detto vabbè andiamo alla Camera di Commercio, ci registriamo tutto a posto, guarda che bello, abbiamo fatto una cosa innovativa, solo che quello che successe allora è che il nostro statuto, visto dalla Camera di Commercio agli occhi del funzionario era illegale e quindi il nostro statuto venne respinto perché non corrispondeva a quello che dovrebbe essere lo scopo di una società di capitali, che hanno questo scopo unico di distribuire dividendi. La quinto tentativo per diciamo sfinimento dell'addetto della Camera di Commercio, lo statuto venne registrato, ci dieron la licenza, la visura per poter operare, però ci dissero guardate che questa è una società fuori legge, questa cosa qui in Italia non esiste, quindi sappiatelo, qualcuno in qualsiasi momento potrebbe arrivare, se deve avere un'eccezione potrebbero esserci dei problemi, quindi noi abbiamo detto però ragazzi aspetta un attimo, se esiste questa cosa in un altro paese perché non deve poter esistere in Italia e quindi qui ci siamo attivati, abbiamo iniziato a esplorare un po' i nostri contatti che avevamo, persone che conoscevamo e quindi lì venne costituito un gruppo di lavoro e iniziamo a scrivere proprio un disegno di legge, questo venne depositato e per farla breve in 14 mesi ci ritrovamo proprio in questo gruppo di lavoro a scrivere una legge che era l'adattamento e per alcuni versi anche il miglioramento rispetto alla normativa che esisteva negli Stati Uniti e questa in soli 14 mesi in pratica venne approvata e dal primo di gennaio 2016 l'Italia divenne il primo paese come stato sovrano al mondo avere una legislazione che riconosceva questa specifica forma, questo status di impresa e quindi oggi esiste in 34 Stati degli Stati Uniti, esiste in Italia, è stata introdotta in Colombia lo scorso anno, è in via di introduzione adesso in Peru e ci sono altri 15 Stati che hanno in pipeline, in percorso di approvazione, una legislazione che è molto più simile direi a quella italiana rispetto a quella americana e quindi ci siamo ritrovati in Italia ad avere una leadership, un primato su questo, quindi oggi l'Italia è il paese al mondo in cui sia le B-Corp certificate che le società Benefit, Benefit Corporation stanno crescendo più rapidamente, quindi abbiamo quasi un centinaio di aziende che sono B-Corp certificate, quindi misurate col protocollo B-Impact Assessment, superano questa soglia di eccellenza di 80 punti, ne abbiamo adesso non mi ricordo il numero esatto, mi sembra intorno alle 2000 che si stanno misurando col protocollo, questo non vuol dire che necessariamente dovranno diventare B-Corp, però vuol dire che sono lungo un percorso di miglioramento e ne abbiamo più di 300 che hanno già adottato la forma giuridica e la più grande adesso si passa dalla piccolissima, piccola azienda, proprio anche la start-up, una start-up nasce assolutamente con questo modello, fino ad arrivare oggi la più grande in Italia che è Chiesi Farmaceutici, che è diventata società Benefit proprio a inizio di quest'anno ed è sul percorso anche per diventare B-Corp certificata e sperabilmente lo diventerà entro qualche settimana e quindi sarebbe la prima al mondo nell'industria farmaceutica ad avere questo tipo di caratteristiche, quindi è una vera rivoluzione copernicana, quindi è possibile anche nel mondo del farma avere delle aziende che abbiano veramente a cuore e che si prendano cura della salute, del benessere delle persone. Sono aziende assolutamente competitive sul mercato le B-Corp che operano in 150 settori diversi, in 60 paesi ce ne sono quasi 3.000 nel mondo oggi, quindi dimostrano che in qualsiasi settore è possibile condurre un business che abbia un impatto positivo, ma anche che abbia una solidità e una competitività dal punto di vista del business, anzi le B-Corp stanno emergendo proprio anche come un modello particolarmente resiliente, quindi sono aziende che quando il mercato va bene vanno un po' meglio degli altri, quando il mercato è un po' più in difficoltà tengono meglio delle altre, questo è emerso con molta forza, soprattutto nel 2008-2009 quando c'è stata la crisi, si è visto che le B-Corp avevano una tenuta migliore proprio perché fondano il successo dei propri business su un modello che è molto più fortemente ridicato al territorio, a rapporti di fiducia e tutta una serie di elementi che poi rendono possibile funzionare anche quando le condizioni sono più complesse. Uno degli sviluppi più interessanti che vediamo è che le Nazioni Unite due anni e mezzo fa circa Global Compact ha chiesto a B-Lab di collaborare per sviluppare uno strumento per misurare con le aziende il progresso rispetto ai Sustainable Development Goals, quindi gli obiettivi 2030 sono stati progettati per i paesi e non per le aziende e quindi c'era questa problematica, le aziende si li vedevano, bellissime le etichette, i colori, le categorie, la vita sulla terra, la vita nell'acqua, eliminare la povertà, zero fame etc., però poi come lo applichi in pratica dentro un'azienda? E quindi Nazioni Unite e B-Lab hanno fatto questa partnership e adesso è già in fase di release beta, questo protocollo che usando gli strumenti delle B-Corp consente di misurare il progresso rispetto ai Sustainable Development Goals, quindi è già in fase appunto di test, ci sono alcune grandi aziende anche italiane che sono coinvolte nello sperimentare, nel dare feedback e dalla fine di quest'anno, seconda metà del 2019, fine 2019, sarà possibile usando il B-Impact Assessment delle B-Corp avere anche la propria performance in termini di progresso verso il raggiungimento dei Sustainable Development Goals. E quindi qui si parla di un'escalation, le Nazioni Unite dicono noi questa cosa la vogliamo diffondere presso, farla diventare uno standard con 140 milioni di aziende in tutto il mondo, quindi ecco, questa è proprio una dinamica esponenziale, poi non abbiamo parlato di accelerazione, di esponenzialità, ma qui si aprirebbe un altro capitolo che dovremmo sviluppare. Il rischio che una società benefit si possa, come dire, possa vestirsi di questa definizione per presentarsi quello che non è, per fare appunto greenwashing, può esistere però, è limitato da un lato dal fatto appunto che ci deve essere veramente un'intenzione seria dell'azionariato di andare in questa direzione, dell'altro diventano veramente fondamentali gli standard di misurazione, quindi l'azienda è tenuta a misurare, misurarsi, riportare quello che fa e qui il protocollo di misurazione nativo delle benefit, B Impact Assessment, diciamo che è veramente robusto. Se ci fossero casi in cui un'azienda, diciamo, per farsi una pubblicità in debita, adottasse questo status, ma poi si comportasse in maniera diversa o, diciamo, contraria ai principi delle società benefit, potrebbe intervenire l'autority garante per la concorrenza e per il mercato, perché si tratterebbe di una distorsione del mercato, una concorrenza isreale, perché mi presento in un certo modo, ma in realtà non lo sono. Consente di capire, di misurare, di valutare se un'azienda stia creando o distruggendo valore, quindi è uno standard con un punteggio che va da 0 a 200 punti, con una soglia di eccellenza 80 punti, se un'azienda dice di essere una benefit, ma è a 20 punti, diciamo che è un problema, vuol dire che c'è una dissonanza tra quello che dichiari e quello che è, quindi sì, diventa particolarmente importante anche questo aspetto di misurazione degli impatti. Ti dico, comunque fino ad oggi non si è mai verificato che un'azienda che non avesse, diciamo, una intenzione seria di muoversi in questa direzione, diventasse una benefit per poi fare tutt'altro, quindi per le ragioni che dicevo prima, è un impegno in più che ci si prende e poi quali siano gli onori, quello da vedere col tempo è più una scelta proprio che l'azienda fa autonomamente. Come tu dicevi, ci sono centinaia, migliaia di aziende in Italia che sono virtuose e lo fanno non perché vogliono far vedere quanto sono belle e quanto sono brave, lo fanno perché credono che sia giusto per un'azienda comportarsi in questo modo e poi in fin dei conti la gente lo sa, lo capisce, cioè quando tu sei su un territorio a che fare con i clienti, col mercato etc., non ti puoi presentare sempre per quello che non sei, può funzionare per un certo periodo di tempo, ma a un certo punto poi la verità viene a galla. Però la tua domanda, se sia possibile che il modello capitalista possa diventare rigenerativo, la mia riflessione è questa, probabilmente si chiamerà in un modo diverso, però non è possibile che rimanga com'è, proprio perché viola le leggi della fisica, viola i fondamenti dell'interazione sociale, quindi un modello che sistematicamente danneggia la biosfera e danneggia la società non ha possibilità di continuare nel futuro e quindi se non si auto riforma, a un certo momento intervengono dei fattori che porteranno a una riduzione dei margini di manovra per questo modello, per non dire a un'eliminazione, quindi è proprio anche un percorso di evoluzione, perché dall'altra parte il modello capitalista è quello che ci ha portato da una condizione disastrosa dal punto di vista di benessere, qualità della vita, aspettativa di vita, educazione, diritti umani etc., solo che allora 200 anni fa, 500 anni fa nessuno ci faceva caso, oggi lo riteniamo assolutamente inaccettabile come si viveva qualche decennio o qualche secolo fa, quindi si alza sempre di più la soglia, però il modello che ci ha portato fino ad oggi c'è un'evidenza fortissima che si è aggiunto al capolinea e quindi a questo punto andiamo verso un altro modello, un'evoluzione e le B Corp rappresentano proprio una delle direzioni più solide, più robuste e più anche convincenti di come questo modello di questa evoluzione sia possibile, sia anche scalabile, quindi abbiamo già individuato la strada per il futuro, adesso dobbiamo solo accelerare se vuoi la trasformazione in questa direzione, quindi il ruolo di Nativa è proprio di essere un catalizzatore nell'accelerare questa trasformazione. Io mi occupo di sostenibilità prima così più per curiosità che altro, fin da quando ero ragazzino, avevo 14-15 anni e mi ero andato a studiare, approfondire i modelli dell'MIT, Limits to Growth eccetera e dicevo sì sì fantastico ormai abbiamo capito, ce ne occuperemo e non è possibile che faremo qualcosa di stupido, abbiamo tutte le informazioni che ci servono e quindi correggeremo il tiro strada facendo. Poi passavano 5 anni e vedevo che non cambiava niente, passavano 10, a un certo momento ho detto forse è meglio che mi metto anch'io a far accadere qualcosa fino a arrivare a dedicare, a scegliere di dedicare tutta la mia vita, tutto quello che facevo ad accelerare questa transizione, questa evoluzione verso la sostenibilità e da allora le cose sono andate accelerando secondo una dinamica che è esponenziale, quindi io credo che oggi non ci rendiamo ben conto della magnitudo della trasformazione che abbiamo di fronte e della velocità con cui tutta una serie di problemi, di sfide si manifesteranno e dell'imperativo di un'azione che sia collettiva, efficace e velocissima per sviluppare e mettere in campo delle soluzioni che in gran parte già esistono, che però dovremmo essere molto bravi a implementare in maniera sufficientemente rapida per fare fronte alla disruption che viene avanti. Quindi io credo che proprio i modelli dell'MIT nel 2019-2020 il sistema diventerà altamente instabile e questo io credo che lo stiamo cominciando a vedere, siamo 7,6 miliardi di persone sulla Terra, arriveremo a 9 miliardi e mezzo, ci stabilizzeremo più o meno quel livello, quindi pensa di aggiungere altri 2 miliardi di persone nei prossimi 25-30 anni e ti rendi conto che veramente il paradigma esistente, il modello esistente, estrattivo non ha nessuna possibilità di poter funzionare nel futuro. Chi lo capisce, l'ha già capito, lo capirà, uscirà bene da questo percorso di evoluzione, chi non l'ha capito non lo capirà, ci saranno altri risultati, però credo che siamo arrivati praticamente al capolinea della possibilità di mantenere il sistema esistente, quindi credo che proprio da un lato il tempo è scaduto, dall'altro ci siamo con nuovi modelli che è giunto il momento di fare scalare il più efficacemente possibile. Questo è il nostro biglietto da visita e noi sul retro del nostro biglietto da visita abbiamo scritto questo, se lo vuoi inquadrare, vogliamo che l'Italia sia un modello di innovazione sostenibile per il mondo, quindi per noi è l'Italia che cambia, è l'Italia che si rende conto che per tantissimi aspetti è già un riferimento planetario, noi siamo i maestri nell'autoflagellarci, nel tirarci indietro, nel vedere negativamente la nostra realtà, forse perché non conosciamo tutte le altre, noi abbiamo queste eccellenze straordinarie, abbiamo sicuramente tante sfide, tanti problemi, però sul fronte della sustainability credo che possiamo veramente essere un riferimento per il mondo e che tutto il mondo ci guardi anche con grande attenzione, pensiamo sul cibo, noi abbiamo un livello di attenzione e di evoluzione su questo fronte che è altissimo, sull'energia, siamo uno dei paesi più efficienti al mondo, quindi la nostra autopercezione è molto bassa, in realtà se vai a vedere i dati alla mano, non siamo messi così male, però è da un lato riconoscendo la nostra eccellenza e dall'altro riconoscendo quanto di buono possiamo anche prendere, imparare e adottare da tutto il resto del mondo che possiamo veramente accelerare questo percorso e contribuire anche in maniera positiva al percorso dell'evoluzione degli altri, quindi abbiamo questo duplice ruolo di crescita nostra e di contributo anche di essere un po' anche un esempio per altri che ci guardano sempre con grandissima attenzione, anche se a volte non ci prendono troppo sul serio, però in realtà c'è una grandissima stima da tutto il mondo per l'Italia quello che facciamo, per quello che riguarda le B Corp siamo veramente un riferimento globale.